Il mese espositivo tra il primo di dicembre e il primo di gennaio ha una mostra a tema natalizio. Se ne sono avvicendate diverse negli ultimi anni, questa è una mostra ancora diversa. Si tratta di una mostra particolare che vede esposta una sola opera, ma di rilevante valore. Si tratta di un Sant'Antonio col bambino di Viaggio dell'Otti, del nostro artista Viaggio dell'Otti, che è normalmente ospitata nella chiesa di una carrocchia della posizione italienese, a cui l'abbiamo chiesta in prestito per poterla esporre in occasione della mostra di Natale 2021. E costituisce la mostra di Natale. Questa scelta particolare è una scelta che rimanda un po' al modello delle mostre dei capolavori di meditazione. Essendo appunto una mostra dedicata alla sacralità natalizia, abbiamo pensato di utilizzare un'opera di grande valore a tema religioso, di cui i visitatori possono fruire in maniera esclusiva e anche particolarmente suggestiva.